Sentite, volevo risolvere subito un dubbio personale. C'è qualcuna di voi incinta? Tu? Tu sei incinta, come ti chiami? Barbara. Barbara. Primo figlio? Primo figlio? Non fate le stronze e non ridete. Primo figlio, Barbara. Senti, per capirci. Hai dormito troppo negli ultimi trent'anni? Volevi due borse nuove ma non avevi soldi? Barbara, primo figlio, che carina. Hai delle amiche che ti hanno già spoilerato quello che succede in sala parto? O preferisci andare più alla cieca? Tu sei più tipa da o la va o la spacca, brava. No, perché te lo dico, ma di base la spacca. No, ma adesso non ci pensare, non ci pensare. Lo sapete qual è l'età media in cui in Italia facciamo il nostro primo figlio? A trentun'anni, quando la percentuale di fertilità è del quattro per cento, ok? E lo chiamano il miracolo della vita. Cazzo, il miracolo è che non ci siamo istinti, no? E tu sei lì e ho fatto un conto. Praticamente, se nei giorni fertili tu ciuli, 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 ciuli di tutto l'anno, va a buon fine una scopata su 25. Cioè, una su 25. Questo ovviamente se vuoi avere un bambino. Se invece non vuoi assolutamente avere figli, anzi, ti stanno proprio sul cazzo i bambini, rimarrai incinta con la prima scopata, fatta male, alle 4 del pomeriggio, tutta sudata, sui gonfiabili del Lido Graziella con Carlo, l'animatore sfigato del miniclub. Che mese sei, Barbara? Quinto mese. Allora non sei ancora in quella fase lì. Perché poi quando arriva il settimo mese, un giorno ti svegli e... E sai qual è il problema? Che non te la vedi più, no? Che poi ti dicono, mi raccomando signora, al giorno del parto mi arrivi bella depilata, e tu dici, eh, cazzo, a trovarla, no? Allora, per tentare di farlo da sola, le provi tutte, tipo fai, metti giù dei begli specchi. No? Ci cammini sopra, fai come la marchesa che camminava sugli specchi dicendo, la vedo grigia. Oppure, sai come facevo io con l'iPhone, no? Con la fotocamera. Un po' difficile, ti scatti così. Io a un certo punto ho creato una galleria fotografica mia insaputa. Poi un giorno ho partorito, sono salita sul treno con il marsupo, i bambini, i bagagli. Mi ha detto, signora il PNR, sì, un attimo, eccolo. Eh, lei non è mai stato alla Napoli Sotterranea? Però è così. A noi donne, proprio la maternità, ci cambia il cervello, no? È vero, è uno studio. Perché voi direte, no? Tipo Barbara, adesso che è incinta, noi donne multitasking il cervello diventerà, si riduce. Cioè proprio parte della materia grigia sparisce, giusto? Per far spazio ai bodi del bambino. Ma quanti cazzo di bodi servono ai bambini nei primi tre anni di vita, no? All'inizio, quando così sei ignorante come lei, così, e sei lì col tuo pancione, no? E pensi al tuo newborn, e vai solamente a comprare quell'incotone organico certificato, raccolto a mano, coi guanti da donne vergini nutrite con le bacche di goji, e ne compri sei, costano 32 euro l'uno, ne compri sei e dici, ma sì, ne li porto avanti per un anno. Cazzo dici? A 24 ore dal parto, dopo che avrai già esaurito la tua scorta di bodi, dopo che avrai scoperto che nella merda di tuo figlio ci sono dei coloranti artificiali, roba che se ti becca la Thunberg ti addebita il buco dell'ozono, ecco che con pacatezza, con eleganza, quella di cui noi disponiamo nel postpartum, darai la carta di credito in mano al colpevole, e gli dirai Amore, vai alla Lidl, comprami un pacco da mille bodi! E lui a quel punto piccolo, come il marito della regina di cuori, Amore, però tu avevi detto che alla Lidl vendono i bodi, ma sono fatti con le sostanze tossiche. Non me ne sbatte un cazzo delle sostanze tossiche! Anzi meglio così se avanza un bodi, me lo frullo e me lo bevo! Tagliategli la testa! La maternità non ci cambia il cervello, cioè noi donne neomamme iniziamo a vedere dei pollock nei pannolini sporchi dei nostri bambini, e soprattutto sviluppiamo dei superpoteri che ci invidiano anche gli Avengers. Amore della mamma, vuoi la banana schiacciata con una spolveratina di cacao al 98% ma preferisci mangiarla con i cucchiaino, non con la forchetta, e ti... Che tra l'altro la cosa magica di questa cosa è che ogni madre capisce il proprio, no? Hai presente? Tipo gli abbinamenti bluetooth delle casse. Infatti quando la mia amica mi sbolla il bambino... Infatti quando la mia amica mi sbolla il bambino... E tia o tete... Amore però non si capisce un cazzo quando parli, eh? Lo facciamo un bel giro dalla logopedista, voglio dire... Hai già cinque mesi, eh? Quando vogliamo iniziare a fatturare questo primo milioncino! E comunque Barbara, cara Barbara, te lo devo dire, è proprio un casino. Ed è normale, è normale che in questo momento dentro di te stia nascendo tuo figlio, insieme a lui stia nascendo il desiderio di mandare a fanculo la gente. E allora tu fallo e sentiti libera, ma l'importante è che tu ti goda questo viaggio. Perché la gravidanza è un viaggio meraviglioso. Dove ad un certo punto ti sentirai come se avessi ingoiato il bagaglio a mano. Grazie, buon viaggio! Grazie, buon viaggio! Grazie, buon viaggio!